Musica Frequento il liceo classico tradizionale e quello che ho acquisito in questi anni ad aver capito che in questa scuola nessuna materia è separata dalle altre, sono tutte collegate tra di loro e quello che si fa prima o poi ritorna sempre Dopo 5 anni di liceo classico posso dire che questa scuola mi ha insegnato attraverso lo studio del greco e del latino soprattutto la meraviglia, la meraviglia nello scoprire che l'uomo di oggi è esattamente uguale all'uomo di ieri Questa scuola davvero insegna come studiare, non è una falsità, davvero si impara come studiare e soprattutto si impara ad apprezzare ciò che si studia In conclusione io lo risceglierei il liceo classico, sorridendo e senza pensarci due volte Musica Nuove generazioni dovranno trovare un modo per preservare l'unicità culturale dei singoli territori senza però perdere il treno del progresso e quale mezzo migliore per riuscirci se non lo studio delle lingue e delle culture Sono qui oggi a parlarvi del percorso ASABAC che è il percorso di cui faccio parte Per chi non lo sapesse, questo percorso offre la possibilità di acquisire un doppio diploma al termine dei 5 anni il diploma italiano nel baccalaurea francese Una frase in particolare mi ha accompagnato per tutti questi anni e il liceo linguistico è al centro del mondo E questo è il fascino delle lingue e nell'esapaco tutto questo verrà ancora più approfondito Abbiate il vostro horizonte Escolta il liceo linguistico Siamo studenti delle scienze umane Sicuramente ti sarei sentito dire che il liceo delle scienze umane non è un vero liceo, non porta nulla di concreto In realtà non è così e svolgendo questo liceo potrai utilizzare dei trucchetti con i tuoi amici per stupirti durante le conversazioni Ad esempio, hai mai pensato a come faccia il tuo cervello a sentire queste parole? O a come tu riesca a vedermi? Ti sei mai chiesto il perché delle diversità e delle tradizioni con le altre culture? Hai mai pensato a come la società influenzi le tue scelte anche se non te ne accorgi? Hai mai pensato alla scuola come un luogo di bellezza, di crescita personale dove impari a vedere il mondo da diverse prospettive? Potresti saper rispondere a queste domande e se sei interessato a sapere come funzionano i sogni le emozioni i pensieri Questa è la scuola giusta per te E allora fai la valigia e preparati per il viaggio più bello della tua vita Io all'esso studio scienze umane e la psicologia e la sociologia ci fanno conoscere le ragioni e il comportamento dell'uomo come singolo e parte di un gruppo L'uomo è un animale sociale che vive in gruppi ma ogni gruppo per essere tale ha bisogno di regole rispettate e condivise ed esse rappresentano il diritto che è ciò che io studio all'ES I gruppi si formano perché gli uomini per soddisfare le proprie necessità hanno bisogno di collaborare tra loro tramite lo scambio di beni andando così a creare il mercato e l'economia e qui all'ES studiamo proprio l'economia Grazie a tutti